bentornati ragazzi sul mio canale ho preso dragon ball dog combat non mi dite perché ho deciso di portarla sul canale subito ho fatto già una partita il torneo ma parlano moltissimo sentirete dei rumori purtroppo è una cosa difficilissima boss e non sto capendo contro mister satan che devo fare ragazzi non ho capito che è successo in realtà sì che non c'è nessuno questo l'ho capito aspettate un attimo ho deciso un bel tornare il potere però non lo dovevo fare perché ho quando sarà finita questa fuori musica musica Grazie a tutti. 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 Ok, vediamo chi è in cielo. È pronto. Apparato. Apparato. Io non penso che sia... E' un allenamento per la prossima storia. La battaglia è... 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 ma per bardak quando tutto sembra perduto non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.